ebbene mercoledì 13 dicembre 2017 un grandissimo tapiro d'oro è apparso su via del corso vi ricordo che via del corso a un certo punto trova una specie di piazza che è nella fattispecie concreta piazza colonna dove è ubicato il governo italiano e ove è ubicato palazzo chigi infatti proprio a palazzo chigi il presidente del consiglio e i suoi ministri svolgono di consueto il famoso cdm che significa cdm consiglio dei ministri ed è un'assemblea in cui il presidente del consiglio in sinergia in collaborazione con i propri ministri si adono ad un tavolo per diciamo così prendere le dovute decisioni in materia di leggi e di ddl disegni di legge ebbene stavo dicendo proprio che mercoledì quindi è apparso si è appalesato su via del corso questo simpatico tapiro d'oro piuttosto grande piuttosto palese il simbolo diciamo così per eccellenza di striscia la notizia che ovviamente è stato notato da un po tutte le persone che proprio in quel momento si trovavano a transitare per quella strada così bella che viene considerata anche come la via dello shopping una via in cui veramente le attività commerciali non mancano ma sono presenti e fanno diciamo così da garanzia a una situazione di commercio piuttosto elevata bene complimenti dunque all'idea di mettere un tapiro gigante a palazzo chigi ubicata a piazza colonna proprio dov'è via del corso il video termina qua e simi utenti di youtube iscrivetevi commentate e al prossimo video